Terme di Sciacca in vendita il piccolo hotel del Monte Cronio a novembre ci sarà la lasta e si partirà da un prezzo base di un milione e 300 mila euro e si torna a parlare della possibilità che il comune acquisisca l'ex motelagip un agente di polizia municipale di Sciacca rimasto ferito nelle concitate fasi di esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un giovane TSO che aumentano e che registrano un abbassamento dell'età dei destinatari. Covid altri due casi positivi a Sciacca che salgono adesso a 43 calano finalmente contagio a Ribera dove sono guarite 25 persone importante il numero di guariti a livello provinciale ma anche altri sette i ricoveri in ospedale. Sono stati completati i lavori effettuati nell'ambito dei cantieri di lavoro a FIA avviati lo scorso mese di giugno a Sciacca portato a termine il rifacimento di marciapiedi e strade nella contrada perviera tra le vie Bellanca Segne e delle Azalee. L'attrice Valeria Punturi, la nina di Sedotta e Abbandonata, sorellina di Stefania Sandrelli è tornata a Sciacca in questi giorni per un breve periodo di vacanza. Accompagnarla è il presidente dell'associazione Pietro Germi di Vincenzo Urraso. Music Festival stasera all'interno dell'atrio inferiore del comune di Sciacca, iniziativa promossa dalla School of the Rock all'interno della quale ci sarà la presentazione dell'ultimo disco dei Sharrabah dal titolo Ricoita. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. In vendita il piccolo hotel del Monte Cronio di proprietà delle terme di Sciacca, SPA e liquidazione. A novembre ci sarà l'asta, si parte da un prezzo base di 1.300.000 euro e intanto si torna a parlare della possibilità che il comune acquisisca la proprietà dell'ex motelagip. C'è il servizio. Si terrà il prossimo 11 novembre l'asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo fissata dal commissario liquidatore della terme di Sciacca, SPA Carlo Turriciano, per vendere il piccolo albergo del Monte Cronio. Si parte da una base di 1.290.000 euro. Le istanze dovranno essere presentate entro l'8 novembre. Siamo di fronte all'ennesimo tentativo da parte della liquidazione di poter incamerare i soldi necessari per pagare l'ampio fronte dei creditori. Questione è questa che non ha mai permesso, 14 anni dopo la costituzione della discussa Società per Azioni, che avrebbe dovuto accelerare le procedure per la privatizzazione del patrimonio, di chiudere questa storia. La storia di questo albergo è quella nota a molti. Il suo funzionamento fu a singhiozzo per qualche tempo, fino alla definitiva chiusura ormai ultratrentennale. Carlo Turriciano cerca un compratore, confidando evidentemente che l'asta non vada deserta, come è successo per una mezza dozzina di volte con l'ex motelagip, con, per ogni tentativo di vendita, la necessità di dover via via abbassare il prezzo. Ma qualcosa sembra muoversi. Si apprende infatti che il comune di Sciacca avrebbe presentato, nei confronti della terme di Sciacca e seppia in liquidazione, proprio una concreta manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'ex motelagip. L'edificio è lo stesso e che fino a pochi anni fa era stata sede di quelli che furono gli uffici amministrativi dell'azienda delle terme e che successivamente ospitò la sede della Polizia Municipale, almeno fino a quando il comando Giovanni Fazio non si trasferì alla Badia Grande. L'ipotesi di un intervento del comune di cui si parla da anni potrebbe andare anche nella direzione di una compensazione dei crediti che l'ente vanta nei confronti delle terme. Negli anni si è accumulata la non indifferente cifra di un milione di euro, dove la voce più significativa è il mancato pagamento dell'Imu, segue a ruota la Tari. La questione è stata oggetto di un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che ha visto il comune di Sciacca vedersi riconosciute alle proprie ragioni. Turriciano tuttavia ha presentato appello e adesso si attende il prossimo pronunciamento, quello della Commissione Tributaria regionale. Forse si potrebbe chiudere la questione attraverso un'acquisizione dell'immobile con una procedura di compensazione del suo valore con i debiti delle terme nei confronti del comune. Probabilmente c'è il pericolo che, ancorché con i giudizi favorevoli delle commissioni tributarie, questi soldi rischino di trasformarsi in un credito inesigibile, gonfiando ulteriormente la già corposa voce dei cosiddetti residui attivi buoni per indicare una somma in bilancio, ma di fatto una specie di scatola vuota. È anche vero però che il comune di Sciacca è strutturalmente deficitario? Potrà fare a meno di questi soldi? Vedremo. Cosa potrebbe farci il comune con l'ex motelagip? Il parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo ha più volte ipotizzato un possibile decentramento di una parte degli uffici comunali dal Collegio dei Gesuiti. La questione è tuttora in fase di evoluzione e potrebbero esserci novità di qui a breve, ma tornando al tentativo di Turriciano di vendere il piccolo albergo del Monte Cronio, questo passaggio sembra andare decisamente in direzione di quello che è stato definito come lo spacchettamento dei beni termali, una soluzione che come noto vede l'amministrazione comunale di Sciacca guidata da Francesca Valenti contraria. E questo, malgrado appaia sempre più difficile immaginare che possa esserci un singolo gruppo imprenditoriale disponibile a prendersi tutto, dal stabilimento alle stufe, dal grandotello alle piscine. E a questo proposito l'asta convocata da Turriciano per novembre per il piccolo albergo fa tornare alla memoria il fatto che fu la regione siciliana a ricomprarsi le piscine dei Molinelli fornendo al liquidatore somme fresche per onorare gli impegni. La questione terme rimane dunque di difficile decifrazione in un ambito nel quale, e a questo punto non soltanto per colpa delle restrizioni del Covid, alla regione siciliana si è perso completamente l'orientamento, non trascurando il fatto che probabilmente la base di partenza di 1,3 milione di euro, più bassa peraltro del 10% della stima del suo valore fatta a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe non essere un prezzo appetibile per eventuali investitori. Insomma, il percorso per rivedere un giorno le terme tornare a funzionare non sembra certamente più agevole di prima. Dieci giorni di prognosi per le ferite riportate a seguito dell'aggressione subita da parte del giovane a cui stava eseguendo un TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Vittima dell'aggressione un agente della Polizia Municipale di Sciacca, l'istituzione è preposta allo svolgimento di questa delicata attività, svolta quasi sempre con grandi difficoltà a causa dello stato di agitazione dei soggetti, la maggior parte dei quali giovanissimi destinatari di TSO. C'è il servizio. È finito in ospedale dove i medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni. Vittima dell'aggressione un agente della Polizia Municipale di Sciacca ha intervenuto per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un ragazzo. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Il forte stato di agitazione del giovane ha reso particolarmente difficoltoso lo svolgimento dell'operazione, tanto da sfociare in una vera e propria colluttazione in cui, ad avere la peggio, è stato il vigile urbano. Il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Sciacca dopo l'intervento dei sanitari del 118. Casi del genere non sono per nulla nuovi. Negli ultimi due anni sono stati ben sei gli agenti di Polizia Municipale che hanno riportato lesioni durante l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori. Sono proprio loro infatti ad essere competenti per questo tipo di interventi che quasi sempre sono costretti ad affrontare con notevoli difficoltà. Inoltre, stando a quanto si apprende, negli ultimi anni non solo sono aumentati in maniera esponenziale i casi di TSO, ma si è anche notevolmente abbassata l'età delle persone destinatarie di trattamento sanitario obbligatorio. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani, un dato che preoccupa nel contesto di un fenomeno diventato sicuramente allarmante. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valente, e l'assessore alla Polizia Municipale, Fabio Leonte, hanno espresso oggi la loro solidarietà all'agente del comando Giovanni Fazio, ferito nel corso dell'intervento. Un'attività difficile, complessa, delicata, cui gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale sono chiamati e che quotidianamente svolgono insieme a tanti altri importanti servizi con grande professionalità, dedizione e senso del dovere, dichiarano sindaco e assessore. A loro va la nostra gratitudine, così come va il nostro sostegno e la nostra vicinanza a chi per servizio alla città diventa oggetto di aggressione, conclude l'amministrazione comunale. Veniamo al Covid e alla curva dei contagi. 58 nuovi casi ieri in provincia, ma per fortuna un elevato numero di guarigioni. Sono state 230. Nota dolente restano i ricoveri. Ieri altre 7 ospedalizzazioni e 2 decessi. A Sciac due casi in più portano a 43 il totale dei contagiati. 25 casi in meno invece a Ribera, che scende a 54. A proposito di vaccini, l'amministrazione comunale di Sciac ha deciso di effettuare le somministrazioni anche nei luoghi di incontro, ritrovo e studio dei giovani. Sentiamo. Ci sono stati 58 nuovi casi di positività al Covid ieri in provincia di Agrigento, ma anche un autentico boom di guariti. Sono stati 230 gli agrigentini che nelle ultime 24 ore hanno sconfitto il coronavirus. La nota dolente invece continua a riguardare i ricoveri tornati a salire. Sono state 7 ieri le nuove ospedalizzazioni e purtroppo ci sono stati altri due decessi avvenuti nei comuni di Castro Filippo e San Biagio Platani e che hanno portato a 327 il totale delle vittime in provincia di Agrigento dall'inizio della pandemia. Torna a salire il numero delle persone ricoverate in degenza ordinaria al San Giovanni di Dio. Sono 27, cioè 3 in più rispetto al giorno prima. 16 le persone ricoverate al Fratelli Parla Piano, 2 in più, 8 presso ospedali fuori provincia, 2 le persone al Covid-hotel di Sciacca, un ricoverato al Covid-hotel di Canicattì e un paziente si trova infine in terapia intensiva a Ribera. A Sciacca, malgrado l'elevato numero di guarigioni a livello provinciale, non c'è stato alcun guarito nelle ultime 24 ore, ma due casi in più, per un totale adesso di 43 persone contagiate. Migliora decisamente la situazione a Ribera, che scende a 54 casi, cioè 25 in meno rispetto al bollettino di ieri. Scende il numero dei positivi anche a Santa Margherita Belice, adesso sono 7, cioè 6 in meno. 3 i contagiati a Sambuca di Sicilia e Santo Stefano Quisquina, 145 ad Agrigento, 11 ad Aragona, 3 a Bivona, 2 a Calamonaci, 3 a Caltabellotta, 171 a Canicattì, 2 a Cattolica Eraclea, 3 a Cianciana, 165 a Favara, anche qui c'è stato un miglioramento con 15 casi in meno, 7 nuovi contagi invece a Licata, per un totale di 227. Due nuovi casi a Menfi, dove adesso sono 41 le persone contagiate, 5 a Montallegro, 2 a Montevago. A Sciacca intanto l'amministrazione comunale ha deciso di dare una ulteriore accelerazione alla campagna di vaccinazione che adesso sarà effettuata anche nei luoghi di ritrovo, di incontro e di studio dei giovani attraverso un'iniziativa che intende coinvolgere l'istituzione comunale, le scuole e l'autorità sanitaria. Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore all'istruzione Gisella Mondino a tal fine hanno indetto una riunione invitando i dirigenti degli istituti scolastici della città e il responsabile del lab vaccinale. L'incontro è stato programmato per venerdì prossimo 10 settembre alle ore 12 in modalità telematica. Sciacca evidenzia nel sindaco Valenti e l'assessore Mondino è tra le città con la più alta percentuale di vaccinazioni, segno di grandissima sensibilità e merito dei nostri concittadini che hanno ben compreso l'importanza del gesto per sé, per gli altri e per la comunità dove si vive. Possiamo fare ancora di più, concludono il sindaco ed il vice sindaco, tra la fascia dei più giovani, per garantire una regolare ripresa in presenza dell'attività didattica a scuola. El Saccense Vincenzo Porrello, il 47enne insegnante di matematica applicata presso l'istituto tecnico Kennedy di Pordenone, indagato dalla locale procura della Repubblica è accusato di essersi assentato dal lavoro 769 giorni in tre anni, giustificando le proprie assenze con malattia o con la richiesta di congedo parentale. Secondo gli investigatori le predette assenze sarebbero state legittime, ritenendo peraltro che il docente svolgesse altre attività lavorative retribuite come consulente aziendale a favore di società private e di enti pubblici di altre città italiane, tra cui anche il Ministero dell'Ambiente, malgrado il tempo stesso, sempre secondo l'accusa, percepisse dall'Impis le indennità di malattia o congedo per una somma complessiva di 13 mila euro. Il GIP di Pordenone, su richiesta della procura, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di sequestro preventivo pari alla somma delle indennità Impis percepite. Gli esiti delle indagini sono stati trasmessi anche alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che ha sentenziato al professore un danno erariale di 110 mila euro arrecato all'amministrazione pubblica. Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca ha condannato il sercenza Antonino Nicosia al pagamento di una multa di mille euro, oltre che al risercimento dei danni, nei confronti delle parti civili costituite, Ignazio Bivone e Salvatore Monte, al pagamento delle spese processuali per il reato di diffamazione aggravato nei loro confronti. I fatti risalgono al 2017 quando attraverso la sua pagina Facebook Antonino Nicosia offendeva gravemente Monte e Bivona con frasi lesivi della loro dignità personale e professionale, peraltro in un contesto di particolare visibilità trattandosi di due ex assessori impegnati nelle elezioni amministrative di quella tornata elettorale. Ignazio Bivone e Salvatore Monte sono stati assistiti dall'avvocato Giovanna Maria Craparo del Foro di Sciacca. I carabinieri di Licata hanno arrestato ieri pomeriggio un 61enne del luogo destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo, sessione riesame. L'uomo era rimasto coinvolto in un'attività investigativa condotta dai carabinieri di Licata nello scorso anno, nell'ambito della quale era emerso quale personaggio di spicco nella gestione di una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti in cui ne venivano utilizzati anche soggetti minorenni con compiti di vedetta incaricati di rilevare l'eventuale presenza di forze dell'ordine nel quartiere. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dove rimarrà a disposizione della competente autorità giudiziaria. I carabinieri di Canicattia hanno denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento il titolare di un locale del centro città che ha trasformato la strada in un unico grande locale notturno. Durante l'ultimo fine settimana, il primo in zona gialla per la Sicilia, i militari hanno intensificato il controllo sulla cosiddetta movida. Hanno così constatato come una nota enoteca nella centralissima via Guerrazzi aveva riempito con tavole e sedie l'intera strada. Dai successivi accertamenti è emerso che il titolare era già stato denunciato alla fine di luglio per lo svolgimento non autorizzato di uno spettacolo con DJ per strada. Sempre nell'ambito di tali controllo, i carabinieri hanno contestato ad un'altra noteca cittadina la violazione delle norme in materia anti-covid. In questo caso il locale faceva ristorazione con un buffet intorno al quale i carabinieri a loro arrivo hanno trovato numerosi avventori. Al titolare dell'esercizio è stata combinata la sanzione di 400 euro, mentre alla prefettura ed egrigendo è stata interessata per la valutazione dell'eventuale chiusura. Ci fermiamo per la prima pausa. Terminate le opere realizzate nell'ambito dei due cantieri di lavoro avviate nel comune di Sciacca nello scorso mese di giugno. Hanno riguardato il rifacimento di marciapiedi e altre azioni di ripristino, sistemazione e manutenzione delle vie Fratelli Bellanca, Segni e vie delle Azelee, tutte alla perriera, ma ne parliamo nel servizio. Sono stati ultimati i lavori per la manutenzione straordinaria di via delle Azelee, via Fratelli Bellanca e via Segni. Opere realizzate nell'ambito dei due cantieri di lavoro per i quali il comune di Sciacca aveva ottenuto il necessario finanziamento da parte della regione siciliana. Due progetti che hanno impiegato per circa due mesi una quarantina di lavoratori tra operai e tecnici. Un'iniziativa dalla doppia finalità, sociale da un lato per chi ha dato opportunità di lavoro a gente disoccupata e di riqualificazione urbana dall'altro, considerato che gli interventi effettuati hanno restituito decoro ad alcune aree della città e nello specifico alla contrada perriera. Ed è soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici, Roberto Locicero. Si sono conclusi ieri con la posa dell'asfalto. Sono due cantieri di lavoro finanziati dall'assessorato alle politiche sociali. Riguardano il ripristino dei marciapiedi e il ripristino dell'asfalto. L'importo complessivo è di 250 mila euro. Questo intervento è stato finanziato nel 2018. Noi abbiamo fatto la richiesta nel 2018 e è stato finanziato nel 2020. Quindi poi ci sono tutte le procedure, chiaramente per il reclutamento, perché in questo caso noi parliamo di una duplice funzione, sia quella del ripristino delle strutture, quindi dei lavori, che dei lavoratori che sono stati selezionati e reclutati dall'ufficio di collocamento perché sono dei lavoratori disoccupati. Quindi ha una duplice funzione sia del carattere sociale che del ripristino delle infrastrutture. Quindi si sono conclusi ieri. È un ottimo intervento in un'area che necessitava di riqualificazione, soprattutto per quanto riguarda i marciapiedi che erano oggettivamente in condizioni insomma disperate. Emergenza Covid. 900 mila euro per le scuole superiori della provincia di Agrigento. Le ha stanziati il Libero Consorzio per consentire ai 24 istituti superiori di competenza dell'ente di poter affrontare le spese legate o comunque riconducibili all'emergenza sanitaria e per garantire la massima sicurezza in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Ne parliamo nel servizio. Il Libero Consorzio di Agrigento ha stanziato circa 900 mila euro in favore dei 24 istituti superiori della provincia per le spese ipotizzabili che dovranno affrontare per l'anno scolastico 2021-2022 legate o comunque riconducibili all'emergenza Covid-19. Queste spese riguardano i costi per la sanificazione degli ambienti scolastici, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, per la piccola manutenzione quale tinteggiatura e muratura e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Le somme sono state erogate indipendentemente dal fondo delle spese che il Libero Consorzio assegna annualmente a tutti gli istituti di competenza della ex provincia per assicurarne la continuità dei servizi amministrativi. Come già comunicato ai dirigenti scolastici, gli importi vengono liquidati nella misura del 70% della somma richiesta, mentre il restante 30% sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Grazie all'approvazione del bilancio di previsione, dichiara il commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo, l'ente è nelle condizioni di assicurare il regolare inizio delle attività scolastiche anche sotto il profilo sanitario, assegnando adeguate risorse per affrontare il perdurare dell'emergenza Covid. È chiaro che il ritorno in presenza degli studenti deve avvenire garantendo condizioni di estrema sicurezza e le somme individuate nel bilancio provinciale serviranno ad affrontare con serenità questa fase della pandemia, ha concluso il commissario Raffo. Dopo oltre dieci anni si pensa finalmente a nuove assunzioni nella pubblica amministrazione in Sicilia, 1.500 posti disponibili per laureati e diplomati per la maggior parte a tempo indeterminato. Queste assunzioni per profili tecnici, amministrativi ed economici serviranno a potenziare gli uffici regionali e locali per aiutarli nella progettazione delle opere e negli adempimenti per la programmazione dei fondi comunitari e nazionali. Si apre la stagione dei concorsi alla regione siciliana. A disposizione ci sono circa 1.500 posti per laureati e diplomati. Il via libera è arrivato dal governo Musumeci che ha sbloccato varie procedure. Un migliaio di assunzioni saranno a tempo indeterminato nei centri per l'impiego e la regione ha scelto la Consip per assisterla nelle fasi concorsuali. 2. I percorsi individuati. Per i 537 laureati, previste una selezione sulla base di titoli di studio e una prova scritta. Per i 487 diplomati, invece, prove scritte e orali. Quest'ultima procedura, senza preselezione quindi, varrà anche per altri 52 laureati di vari profili. L'Aggiunta ha approvato anche la proposta di ripartizione del Fondo di sviluppo e coesione che adesso verrà inviata a Roma per l'ok definitivo. Una manovra che consentirà di poter dare anche la copertura finanziaria alla selezione di 300 giovani laureati per contratti a tempo determinato della durata di tre anni, così come previsto da una norma inserita nell'ultima legge finanziaria della regione. Queste assunzioni per profili tecnici, amministrativi ed economici serviranno a potenziare gli uffici regionali e locali per aiutarli nella progettazione delle opere e negli adempimenti per la programmazione dei fondi comunitari e nazionali. Negli ultimi giorni, insieme all'assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto, il presidente Nello Musumeci ha definito alcuni dettagli che ora sono stati ratificati da tutto il governo, si legge in una nota della presidenza. È l'occasione per molti giovani, sottolinea Musumeci, di fare un'esperienza nella pubblica amministrazione siciliana che a seguito dei pensionamenti degli ultimi anni e del blocco ultradecennale delle assunzioni è sotto organico, una nuova e motivata forza lavoro che può e sarà molto utile quindi negli uffici della regione e dei comuni. Ci spostiamo a Calamonaci. Anche quest'anno prende il via il piano di interventi per l'assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti, promosso dal distretto sociosanitario di 6 e finanziato dal Ministero dell'Interno. I servizi sono rivolti a tutti gli utenti over 65 in una ridotta o totale condizione di non autosufficienza. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti dei comuni facenti parte del distretto sociosanitario di 6, fra cui Calamonaci, dice il sindaco Spinelli, offre prestazioni che riguardano la cura della persona e il disbrigo di pratiche. Non devono intendersi prestazioni sanitarie a domicilio, ma semplicemente assistenza domiciliare. Per maggiori informazioni ci si può recare presso l'Ufficio Affari Sociali del Comune di Calamonaci, dove è possibile ritirare l'apposita modulistica, la cui presentazione scade il prossimo 1 ottobre. L'attrice Valeria Punturi, una delle protagoniste del film Sedotte e Abbandonate, è tornata in questi giorni in vacanza a Sciacca, ospite dell'Associazione Culturale Pietro Germi, per rivedere dopo tanti anni i luoghi in cui vennero girate le scene del noto film del regista genovese. A Sciacca mi legano tanti ricordi, è stato molto bello tornare qui. Pietro Germi per me è stato un maestro, un regista scomparso troppo presto, ha dichiarato l'attrice ai nostri microfoni. Sentiamo. L'attrice Valeria Punturi è ritornata in questi giorni a Sciacca per un breve periodo di vacanza, ospite dell'Associazione Culturale Pietro Germi di Vincenzo Raso. Nel 1964 era stata una delle protagoniste del noto film di Pietro Germi Sedotte e Abbandonata, dove interpretava il ruolo di Annina Ascalone. Ai nostri microfoni il ricordo di quelle scene e di quegli anni. La città l'ho trovata molto cambiata, ingrandita, si è sviluppata moltissimo, però era meglio prima, quando eravamo tutti più uniti, perché adesso è molto dispersiva. Cosa ricorda in particolare al mondo di quegli anni delle scene di Sedotte e Abbandonata? La scena del rapimento su alla piazza San Michele, poi quando mangiavamo il gelato la sera, che passeggiavamo giù sempre al corso. Tante belle cose, perché ho passato bei momenti qui a Sciacca. Il mare è bellissimo, tutto ok. Cosa ricorda in particolare al mondo di Pietro Germi? All'epoca com'è stato da lavorare con lui? Con Pietro Germi è stato benissimo, poi ho fatto anche Serafino con lui, con Celentano, quindi siamo stati in Abruzzo. Qui siamo stati in Sicilia, una persona molto cordiale, quando un po' andava su di giri era un po' dura la cosa, però era comprensibile di tutto. C'è qualche retroscena del dietro le quinte, qualche ricordo particolare che ci vuole rivelare? C'era che lui era molto duro, se tu non facevi bene la scena ti faceva anche piangere, questo era, perché lui voleva proprio tutto preciso, come diceva lui. Il prodotto finale però è stato eccezionale. Sì, bellissimo, infatti tutti lo dicono, che se è stata abbandonata è sempre da rivedere, è da rivedere i luoghi di Sciacca che è molto bella, bello il mare, bella la gente, la gente è molto cordiale, ospitale, tutto ok. Un ultimo commento, le chiedo un ricordo di Vincenzo Licata. Ah, Vincenzo Licata è un grandissimo poeta, come lo definiva Germi, che lui era un grandissimo poeta, quindi un bellissimo ricordo. Infatti quando sono venuta qui la prima volta che ho visto il figlio, dico ma no, non è possibile che ancora lui è in vita, perché gli somiglia tantissimo. Poi delle belle poesie, anche la musica, bellissimo proprio Vincenzo Licata. Infatti la prima cosa che ho fatto è che sono andata a vedere la statua e mi sono fatta le foto, perché è bello, molto bello. Quando rivedo io il film, mi rivedo alla mia età di otto anni. Ogni tanto dico ma quello ero io o no? Perché rivederti ora, adesso da grande, da maturo, ricordando una cosa, come ha detto Valeria, era uno molto, diciamo, scupoloso Pietro Germi e se tu non facevi quello che diceva lui, ti cazziava materialmente. Io invece ho aggirato l'ostacolo, ho imbrigliato a Pietro Germi. In che senso? Perché durante le scene, tutte le cose che loro lasciavano lì, libere, io regolarmente mi sembrava normale prendermi lì e portarmi a casa, come il Ciacchi, il libro di lavorazione di Mirta Guarnaschelli, il giornale Storyboard, dove c'è tutta la storia scritta da Pietro Germi. E alla fine io ho aspettato che lui mettesse la data e la firma per sottrare questo giornale. Beh, io ti posso dire una cosa, di Sedotto Abbandonato avevo dei ricordi bellissimi, strepitosi. Io mi ricordo quando con Vincenzo Licata andavamo con Pietro Germi nelle taverne, lui amava le taverne. Io mi ricordo, lui scendeva dal cavalletto che faceva le riprese e io salivo. E ora è il momento di ricordare a Iaci Parolini un grande fotografo, era regista della fotografia, mi diceva, a vincere, a scende del cavalletto, lo fai incazzare, scende. E allora è sta storia che loro mi riprendevano. Io dentro di me dico, ora ti frego una cosa, ti faccio vedere che ti frego una cosa, così ti faccio stare calma. E parliamo di musica. Stasera all'Atrio del Comune lo spettacolo musicale musical festival organizzato dalla School of Rock di Sciacca. Nell'ambito della serata sarà presentato il disco e il video ricoita del gruppo saccense degli Isharrabà, che riprende e valorizza la musica folk siciliana da Rosa Balistreri in poi. Ma sentiamo il servizio. Si intitola a ricoita il disco e il video che stasera verranno presentati a Sciacca all'interno dell'Atrio Inferiore dell'ex Convento dei Gesuiti dagli Isharrabà, gruppo musicale nato nel 2017, formato da Salvatore Catanzaro alla Voce, Accursio Cortese al Pianoforte, Michele Bruno alla Fisarmonica, Ezio Bongiovia alla Chitarra, Valerio Oliveri al Basso e Alessandro Pusateli alla Batteria, un CD composto da 13 tracce che fondono canti della tradizione siciliana a sonorità folk, pop, blues e jazz. Tra i brani anche tre inediti composti da Cortese, su testa di Catanzaro. Com'è nata questa idea di fare questo gruppo? Questa idea fondamentalmente nasce per portare alla luce, diciamo riportare alla luce brani della tradizione siciliana che comunque non erano sempre in voga come altri, e quindi con una nuova veste, quindi un arrangiamento e una sonorità tipicamente mediterranea, con influenze però stilistiche di vario genere, abbiamo cercato di appunto costruire questo progetto con amici fondamentalmente, più che colleghi, con i quali appunto da piccoli abbiamo condiviso tante esperienze. Poi cosa è successo? che man mano che ci esibivamo notavamo che c'era un grande riscontro da parte del pubblico per questo nostro repertorio e quindi abbiamo comunque deciso di farne un album. Ecco perché nell'album abbiamo soltanto tre inediti e dieci tracce, diciamo che sono tra virgolette delle cover, ma in realtà è come se fossero degli inediti anche quelli perché è rimasto soltanto il titolo del pezzo e il testo. Poi alla fine l'arrangiamento è completamente nuovo e quindi è come se fossero di fatto tredici brani nuovi. Ecco tu di professione fa l'architetto, come ti trovi in questa avventura musicale? Che evidentemente capisco anche per la passione che ci mette e ti trascina molto. Beh sì, mi ci trovo intanto perché comunque questo sodalizio è un raggruppamento di amici, cioè una base di collaborazione un po' storica quando eravamo un po' più giovani con Accurso, Alessandro, insomma, quindi c'è un precedente. Abbiamo deciso di, su invito di Accurso, qualche anno fa, rimetterci in cammino ed è una passione che non avevo mai messo da parte che sono quelle passioni che rimangono passioni quindi pronte a rimigorirsi. E comunque diciamo però, insomma, per un po' anche tradizione familiare fa un po' parte dell'ambito dello spettacolo che sai quando ci sei dentro, quando ci nasci, poi fa parte di te. Lo spettacolo degli Sharabah si inserisce nell'ambito dell'ultima serata del Music Festival organizzato dalla School of Rock di Sciacca fondata da Alessandro Pusateri. Volevo ringraziare il comune di Sciacca e Sino Caracappa perché si sono interessati e hanno veramente, ci hanno dato spazio, tanto spazio quest'estate. Stasera diciamo concluderemo tutta una serie di serate che hanno riguardato innanzitutto due giorni del saggio della School of Rock presso l'Atre Inferiore e poi altre quattro serate itineranti che hanno riguardato sia gli allievi della scuola di musica che varie band emergenti del territorio. Questa sera diciamo chiudiamo col botto perché stasera avremo sul palco a parte la cooperativa Arcobaleno e lì ringrazio il presidente Marco Mustacchia col quale collaboro ormai da un anno e quindi i ragazzi della cooperativa si esibiranno in due brani di Giovanotti insomma una cosa molto simpatica e poi avremo sul palco diverse band di caratura credo regionale perché i Sharabah presenteranno il video e il disco avremo i Mesa Round, avremo News Band e poi altre band locali quindi stasera veramente ci sarà un livello importante sul palco e per questo ringrazio tutte le band interessate che stanno venendo gratuitamente appunto e stanno partecipando a questa amministrazione assolutamente gratuitamente. Parliamo un attimo degli Sharabah quando si esibiscono loro svesti i panni dell'organizzatore e vesti quelli del batterista. Sharabah è un progetto che è veramente, veramente, veramente qualitativamente di altissimo livello speriamo che con la ripartenza possiamo anche riuscire a portare avanti quest'altro progetto. L'ingresso alla serata musicale di stasera sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. C'è la prima traccia che è un pezzo dedicato al nostro carissimo amico e compianto Cosimo Barna ed è l'unico brano dei 13 che ha in un testo in italiano tutto il resto è in lingua siciliana perché a me piace proprio sottolineare che il siciliano è una lingua, non un dialetto. Ecco, questo album uscirà ufficialmente quando? Uscirà ufficialmente il 20 di settembre che è una data particolare per noi perché è l'anniversario della morte di Rosa Balistreri di Rosa Balistreri diciamo fa parte del nostro repertorio. Torna il letterando in festa Sciacca con quattro incontri tra settembre e ottobre dedicati alla presentazione delle opere di scrittori siciliani. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno il sabato sera alle ore 19 presso la multisala Badia Grande. Si inizia l'11 settembre con Luigi Galluzzo che assieme a Massimo D'Antoni parlerà del suo libro I giusti e i peccatori. Sentiamo. Letterando in fest off. Torna a Sciacca in un'edizione speciale il Festival della letteratura. Dopo il successo riscosso nel mese di luglio tornano gli appuntamenti culturali nel luogo in cui sono stati originariamente concepiti alla multisala Badia Grande. Ogni sabato dall'11 settembre al 2 ottobre verrà presentato un libro con inizio sempre alle ore 19. Continuano così gli incontri con gli autori all'interno della manifestazione che da 12 anni diffonde la cultura in città con il patrocinio del comune di Sciacca e la collaborazione della libreria Mondadori e dell'associazione Terra Matta. Ieri, oggi e domani continua a essere il focus del letterando che prenderà il via sabato 11. Sarà lo scrittore, giornalista e conduttore media di Asetto Luigi Galluzzo ad aprire il letterando in feste off. Presenterà assieme al collega Massimo D'Antoni il suo romanzo dal titolo I giusti e i peccatori. È infatti sulla linea sottile che separa il bene dal male che si inquadra l'indagine di Elena Martire commissario di polizia protagonista del libro. Il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia di Fridi Marina è l'epicentro del mistero a cui seguirà poi un secondo omicidio crimini inspiegabili nel quadro di un anonimo paesino deturpato dall'abusivismo edilizio. Il secondo incontro in programma il 18 settembre avrà per protagonista Cetta Brancato scrittrice drammaturga autrice di numerose opere teatrali rappresentate in molti teatri italiani che ha lavorato tra gli altri anche con Andrea Camilleri. Assieme a Sino Caracappa ideatore del festival oggi assessore del comune di Sciacca presenterà La baracca degli intellettuali Ti bacio sempre finché posso atto unico in tre scene con la testimonianza di Liliana Segre sul dramma da lei vissuto. Si tratta della narrazione di una storia di famiglia con l'efficacia comunicativa della rappresentazione drammaturgica. Gli eventi riguardano il periodo che va dal 10 marzo del 1944 data dell'arresto di due uomini colpevoli di cospirazione e attività clandestina di fiancheggiamento della resistenza politica e partigiana fino alla sofferta comunicazione datata 12 maggio del 45 della morte di uno di loro. Un fatto che per i temi affrontati per gli eventi descritti e le informazioni fornite trascende gli aspetti individuali e intimi per rappresentare la dimensione collettiva di una condizione disumana e criminale quella del nazismo e del fascismo. Il terzo appuntamento sabato 25 settembre sarà con Giuseppe Cipolla storico dell'arte e docente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo presenterà ai pochi felici Leonardo Sciascia e le arti visive converserà con Sandra Tornetta in questo libro Cipolla riesamina tutti i testi di Leonardo Sciascia dedicati alle arti visive nel volume si delinea un bilancio sulla forma e lo stile delle attività critica di Sciascia. A chiudere il festival il 2 ottobre sarà il giovane autore saccense Giuseppe Patti che con Accurso Soldano presenterà il gran finale con protagonista un ex impiegato di banca divorziato che spinto dalla passione amorosa troverà impiego come badante ad un uomo molto particolare libro che ha sin da subito ricevuto numerose recensioni positive in diversi concorsi letterari nazionali. A proposito di libri rivediamo quale ci consiglia da leggere la Mondatori di Sciacca Questa storia inizia con un cane anzi con un cane o un uomo il cane è magro denutrito spunta all'improvviso come un'apparizione e ha fame molta fame l'uomo è un vecchio è stanco e vive immerso nella solitudine in una casa al confine tra il mondo degli uomini e quello degli animali insieme a loro c'è il bosco pieno di luci ombre e cose nascoste il cane appare scompare davanti alla casa il vecchio vorrebbe avvicinarlo nutrirlo prendersi cura di lui comincia col dargli un nome osso che gli suggerisce la nipote poi si mette ad aspettare con una ciotola del cibo appoggiata sul prato e così lentamente i due si studiano e si conoscono o forse il loro incontro è avvenuto migliaia di anni fa quando gli uomini cacciavano e vivevano nelle capanne con la nascita della straordinaria alleanza tra l'uomo e il lupo tra gli esseri umani e la natura avete sicuramente accarezzato un cane nella vostra vita prima di voi infinite volte la mano di un essere umano si è posata su un cane ci sembra il più banale dei gesti non lo è se avete la pazienza di leggere questa storia proverò a spiegarvi perché osso anche i cani sognano di Michele Serra edito Feltrinelli tutto pronto in sei piccoli comuni della provincia di Agrigento per ospitare il primo Sicani Creative Festival una manifestazione itinerante coordinata da giovani e volontari per promuovere arte musica e letteratura Bivona Santo Stefano Quisquina Alessandria della Rocca Cianciana Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani per il sindaco di Santo Stefano Francesco Cacciatore è un modo per incentivare il turismo nei piccoli borghi e una rinnovata ricettività sentiamo Tutto pronto a Bivona Sant'Angelo Muxaro Santo Stefano Quisquina Prizzi Alessandra della Rocca Cianciana e San Biagio Platani per ospitare dall'11 al 26 settembre prossimi il Sicani Creative Festival un festival per tutti una caravana itinerante di concerti presentazione di libri mostre e laboratori un modo per venire a scoprire una terra selvaggia e meravigliosa quella dei Sicani incentivare il turismo nei piccoli borghi promuovere l'arte e contrastare in questo modo emigrazione e spopolamento delle aree interne il progetto in via di realizzazione è stato il vincitore dell'avviso pubblico Borghi in Festival promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura ne abbiamo parlato con il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore è veramente un momento di straordinaria visibilità per i nostri borghi per le nostre aree interne un momento anche di promozione del nostro territorio noi veramente dobbiamo ringraziare il ministero dei beni culturali il ministero della cultura guidato dal ministro Franceschini per questo momento io dire di rigenerazione culturale oltre che turistica ed economica sociale di questi nostri piccoli comuni un progetto che coinvolge a livello nazionale 52 comuni quindi ognuno di questi borghi avrà un proprio momento importante avremo tanti appuntamenti culturali che si susseguiranno in questi giorni proprio in queste ore a Santo Stefano Quisquina il fermento è veramente straordinario stiamo allestendo una bellissima mostra all'interno della villa comunale partiremo con una grande mostra all'eremo di Santa Rosalia alla Tresquina da un'idea di alcuni artisti con il catalogo e l'allestimento che sarà curato dalla fondazione Orestiade la Sicilia Fredda viene chiamata proprio partendo da diciamo da un progetto che coinvolge tanti artisti di chiara fama regionale avremo anche dei momenti culturali con delle presentazioni di libri così come anche un altro evento musicale un duo jazz che allidera con le note straordinarie della nostra comunità Le chiedo un commento su questo rinnovato entusiasmo all'interno dei piccoli borghi noi arriviamo da pochi giorni fa dai borghi dei tesori adesso c'è questo Sikani Festival dopo anni di oblio i piccoli borghi stanno tornando a nuova luce assolutamente ma ce la stiamo mettendo tutta io credo che oggi abbiamo gli strumenti per poter portare avanti una programmazione diciamo strutturale di un come dire abbastanza omogenea articolata è una programmazione che coinvolge il territorio dei Sikani non dobbiamo pensare più da singoli borghi ma dobbiamo portare avanti una strategia unica naturalmente con le peculiarità che sono le nostre noi dobbiamo investire chiaramente su quei segmenti turistici che la fanno da padrona il turismo relazionale il turismo ambientale quindi quello che sono le peculiarità dei nostri borghi certo dicevi molto bene il borghi dei tesori prima il borghi in festival ora e così io aggiungerei tanto quanto stiamo facendo con tante altre misure importanti voglio ricordare che stiamo lavorando in modo anche straordinario con il distretto rurale di qualità con il galle stiamo attivando alcune misure con la strategia nazionale area interna quindi io credo che abbiamo quegli strumenti per poter fare bene e naturalmente non soltanto come enti locali ma cercando di coinvolgere tanto associazionismo con la sua poesia in dialetto l'urreduci di guerra il saccense Giuseppe Maniscalco si è giudicato il premio speciale della giuria al primo concorso internazionale di poesia città di chiusa sclafani ascoltiamolo ai nostri microfoni l'urreduce scampato della guerra tornava spaisato alla sua terra con la divisa sciratizza e le scarpuna per difendere la patria e l'imbrugliona cercava la mamma e la mogliere che tenia fra lo cuore e le pensere ma la mamma era già morta e sapendolo disperso la mogliere si intrecciava penna un altro verso disperato non sapendo cosa fare di mattina va alla chiesa per pregare ma un giorno scompario come lo vento e a quanto pare lo gioaro allo convento è una storia come tante di tragedia di migliare degli italiani alla Siberia di le poche che alla casa ritornano e delle tante che la morte per gioaro morti che dormono fra gli sterminati campi di girasole con la speranza della pace e dello sole si chiude qui il nostro telegiornale grazie ancora una volta per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.